Siamo arrivati anche questa volta sul filo di lana, ma ora c'è un primo punto fermo per il futuro del Nevegal. Il comune di Belluno ha affidato la gestione degli impianti di risalita del colle all'associazione temporanea d'impresa formata da Dolomiti Strade e Nevegal 2021, attuale proprietaria degli impianti. Si avvicina così la soluzione di una questione che si è trascinata a lungo, con il bando inizialmente andato deserto ripubblicato. Basti pensare che la stazione unica appaltante di Vicenza, che ha gestito la gara, aveva dato a maggio il via libera all'unica offerta pervenuta. Da allora, invece dei due mesi previsti, ce ne sono voluti quasi sei per mettere nero su bianco l'affidamento. Ora l'accordo prevede che il comune di Belluno acquisti gli impianti al prezzo già fissato di 140.000 euro per procedere all'affidamento. Una grandissima soddisfazione di vedere chiuso un percorso davvero difficile che abbiamo preso in mano l'anno scorso. Era una cosa in itinere, avevamo promesso che andavamo ad aggiungere la gara, malgrado gli scetticismi che avevamo attorno. Ora è aggiudicata in termini provvisori, ci saranno poi tutta la parte documentale e pratica per arrivare alla firma del contratto. Naturalmente ci sono ancora alcune incognite, come quella dell'acqua e altre situazioni che dovremmo definire un po' meglio. Certo è un passo importante per dare una certa sicurezza ai residenti, agli amanti del Colle, perché possono guardare positivamente la stagione prossima. E proprio a proposito del problema dell'approvvigionamento idrico, con il pozzo da cui si attingeva l'acqua per i cannoni attualmente chiuso per mancanza di autorizzazioni, Roccon si mostra cautamente ottimista. Abbiamo ricevuto rassicurazioni un po' da tutte le parti, se andavamo a chiudere anche questa gara forse era anche un elemento in più per che altri enti decidessero su questa delicata questione. Non c'è dubbio che abbiamo interloquito con tutti, mi pare di parlare positivamente di questa questione, ma saranno più chiari prossimamente. Intanto è previsto per la settimana prossima il via ai lavori di ripristino della pista di rientro al campo scuola, seriamente danneggiata la scorsa settimana dai violenti eventi atmosferici. L'acqua ha fatto cedere il terreno, trascinando a valle diversi metri cubi di sassi e terra. Non ci facciamo mancare nulla, nel senso che anche qui è venuta giù una piccola frana a 40-50 metri cubi di ghiaia, dovremo ripristinare questa pista di rientro verso il campo scuola, lo faremo nei prossimi giorni, l'abbiamo già portato sui macchinari, insomma lavoriamo con risorse proprie per chiudere anche questa vicenda.